Lo spirito del pianeta, questo è il nome scelto per l'affascinante viaggio nel mondo della musica popolare proposta dal Bosaggia, grimiti gli spalti della palestra comunale del Torchione. In scena gli amici della musica del Bosaggia, formazione diretta dal maestro Davide Svanosio che raccolte il testimone del maestro Tampini. Uno spettacolo che ha alternato l'esecuzione di brani all'esibizione del gruppo Danza del Mondo, diretto da Patrizia Zecca. La voce narrante di Gianluca Moiser è stata filo conduttore di uno spettacolo che ha offerto una ricca panoramica sulle tradizioni musicale d'Europa, di Israele e dell'America. Ricorato dal senso di sicurezza trasmesso dal canto ai fedeli, decisi quindi di attraversare la panoramica per raggiungere il continente. Mi ritrovai così in un'atmosfera completamente nuova. La sacralità del tempo irlandese fu sostituita dalla travolgente allegria di una piazza festante della vecchia Parigi. Gli spettatori a corsa dal Bosaggia hanno attraversato con la fantasia i fusiorari, i continenti trascinati dalle melodie e dalla danza. Un viaggio che si è concluso con l'ino di Mameli, il canto degli italiani, popolo che alla ricerca di lavoro e nuove opportunità ha raggiunto i quattro angoli della terra. Grazie.